Cambio forzato per l'allenatore serbo, ora dovrà affrontare questi minuti con l'uomo in meno, prova a calmarlo il quarto uomo, Stankovic, ma non è facile. Pellegrini sul punto di battuta si alza, José Mourinho che dice al suo pubblico basta con gli insulti a Stankovic, bello questo gesto di José che decide di stoppare i cori.